Siamo nella chiesa di San Domenico ad Orvieto dove possiamo ammirare uno dei monumenti più importanti della scultura italiana del secondo 200, un monumento che rappresenta una svolta capitale nell'ambito della scultura italiana. Il nostro personaggio si chiama Guglielmo d'Ebrè, era un cardinale francese di cui sappiamo molto poco in realtà, lui è sicuramente stato legato dalla corte pontificia a partire dal 1262 quando fu nominato cardinale, cardinale col titolo di San Marco e San Marco appunto è il personaggio che vedete in alto, il quale presenta la figura del cardinale alla Vergine. Il monumento è impostato secondo il concetto di edicola, cioè di una struttura appoggiata alla parete che in origine non si trovava dove la vediamo oggi, ma era collocato in realtà all'interno della chiesa di San Domenico nella navata che oggi è andata distrutta. Questo signore ha rappresentato per la chiesa, è stata una figura importante per la chiesa romana di quel periodo perché oltre a partecipare ovviamente a molti concili in quanto elettore del Papa era anche incaricato di una serie di compiti di carattere diplomatico che gli dettero una grande importanza dal punto di vista politico. Morì nel 1282 e chiese di essere sepolto qui dove erano stati inumati altri tre personaggi, tre cardinali che avevano delle tombe situate anch'esse all'interno della navata della chiesa. Oggi come oggi quello che vediamo è una ricomposizione, una ristrutturazione del monumento secondo quelle che erano i canoni che venivano realizzati negli ambiti del 1900. Qui possiamo vedere come veniva impostato il progetto di morte. La morte nel Medioevo non era vista ovviamente come un semplice trapasso, ma come un passaggio verso il paradiso, diciamo l'eternità. La Vergine al centro rappresenta il punto di riferimento per tutti. Poi abbiamo Marco, ricordo che Marco viene scelto perché Cardinal Debré era cardinale del titolo di San Marco e qui a destra San Domenico, Domenico è il titolare della chiesa. Sotto ancora abbiamo questa specie di cassa funebre dove compare la figura del cardinale, in questo caso morto, quindi giacente, che viene mostrato al pubblico grazie a due accoliti che aprono delle tende come se questa operazione avvenisse in maniera quasi fotografica. Sotto ancora un grande basamento a due piani con ricchissime decorazioni di tipo cosmatesco, fatte di mosaici, di tessere invetriate che erano tipiche del mondo romano. Bisogna ricordare che Arnolfo, autore di questo monumento, era nato in Toscana, ma aveva subito una forte influenza dall'arte romana, ambienti che lui frequentava da diverso tempo, anche perché dobbiamo sapere che Arnolfo è diventato artista ufficiale del Papi, seguiva la corte pontificia che come sappiamo qui a Orvieto spesso sostava durante i viaggi di trasferimento verso l'Umbria settentrionale, in particolare verso Perugia. Abbiamo anche la possibilità di osservare gli stemmi del cardinale, qui ce n'è uno in parte conservato e abbiamo anche la possibilità di capire come Arnolfo agisse dal punto di vista artistico. Era un maestro che nel suo grandissimo magistero usava una serie di espedienti estremamente particolari, come ad esempio il fatto che le sculture di Arnolfo non erano mai finite, non erano mai completate, perché le parti non in vista, a differenza di altri scultori, Arnolfo non le realizzava, le lasciava grezze, perché diceva che era inutile lavorare fino in fondo quelle zone dell'immagine plastica che non si dovevano vedere da parte del pubblico. Che cosa manca qui? Manca, come potete notare, qui è solo l'avete accennata, l'edicola che è stata però ricostruita attraverso una serie di disegni che vengono esposti qui in chiesa e mancano anche alcuni altri elementi, come ad esempio un'altra piccola edicola che doveva contenere la figura della Vergine e le figure degli accoliti in alto. Altra cosa interessante è costituita dalla vicenda di questo monumento, che come tanti altri monumenti del Medioevo è stato continuamente spostato, manomesso e in qualche modo alterato. Allora che succede? succede che questi monumenti in realtà non sono tombe, come normalmente si legge, ma sono cenotafi, sono eretti per ricordare la memoria del defunto che normalmente veniva sepolto sotto il pavimento della chiesa. Ora le spoglie del Cardinal Debré non sono state mai ritrovate, però siamo sicuri al 100% che esse fossero state traslate sotto il pavimento della chiesa. Normalmente venivano deposte proprio davanti al basamento del monumento, che aveva inoltre anche una protezione, in genere una cancellata, che lo separava dal pubblico e che ne enfatizzava in un certo senso la monumentalità. Non sappiamo se sullo sfondo di questo monumento, e questo è un aspetto estremamente interessante, vi fosse una decorazione a mosaico. A volte era anche dipinta semplicemente a fresco, ma abbiamo altri esempi, c'è il caso di Roma, dove questi monumenti presentavano un fondo sfavillante, quasi così astratto, in cui il mosaico dorato dava un maggior rilievo alle figure, che noi adesso vediamo un pochino schiacciate sulla parete perché bianco sul bianco ovviamente non rende l'idea della volumetria. Altro fatto interessante, questo monumento non era fatto per essere visto frontalmente come lo vediamo oggi, si doveva vedere diagonalmente, cioè entrando nella chiesa noi dovevamo avere la prima immagine del monumento in una diagonale, che Arnolfo di Cambio, essendo un grande scultore e anche un grande architetto, aveva sicuramente studiato, per cui la prospettiva da cui dovrebbe essere visto questo monumento grossomodo dovrebbe coincidere all'altezza di quel confessionale laggiù. Altro dato interessante, il basamento che voi vedete non è quello originale, il basamento doveva essere molto ricco e molto decorato, a volte c'erano anche degli scalini che facevano accedere all'altare stesso. Altro fatto interessante, le colonnine, queste colonnine sono state recuperate recentemente, sorreggevano questa sorta di baldacchino che noi possiamo ricostruire grazie ad altri monumenti che hanno avuto la fortuna di essere meglio conservati. Ce ne sono alcuni a Viterbo che dovrebbero essere un po' il prototipo di questo. Solo la grande novità che Arnolfo di Cambio realizza qui è la resa più complessa del monumento stesso, perché a Viterbo i monumenti sono ancora ribassati rispetto alla situazione attuale. Qui abbiamo questo doppio basamento che permette una migliore visuale della figura. C'erano anche delle decorazioni, probabilmente delle decorazioni dipinte, in corrispondenza del guanto del cardinale si vede ancora la traccia di una decorazione poligroma, probabilmente erano dorati i capelli dei due alcoliti e probabilmente erano dorati anche i capelli della Vergine. Una cosa interessante, l'ultima cosa interessante è che Arnolfo usava spesso pezzi provenienti dall'antichità classica, quindi questi pezzi venivano ripresi, rilavorati e ricollocati sul posto. Ad esempio la testa della Vergine è quasi sicuramente la rielaborazione di una scultura di una dignità femminile e questo elemento ci porta a capire come nel Medioevo non ci fosse un contrasto tra quella che era l'arte del momento con l'arte classica, anzi c'era una continua osmosi, una continua trasmissione di dati tra il mondo antico e il mondo medievale.